C'è una strada nel deserto, immersa nelle sabbie. Una vena strada, lunga e nera, sulla faccia della terra, verso la fine del cuore. Vieni, ti ha portato la vita. Aspetta, chi verrà? Qualcuno? Vieni, la verrà! Questa volta ti porto per la sua maglia qualcosa di veramente importante. Perché sì? Ma questo è un minato! La guerra è una cosa semplice. O si vive o si muove. Perché sono il minuto e forno, come sei? Ilea, mi sa che per questa volta passiamo con la sua maglia, eh? Inizio da qui. Da questo luogo. Dall'agarò ai gusari. Per voi uccidetevi tutti e facili. C'è sempre una speranza. Lo vedi. 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 E' così delicato. Com'è? E' quasi l'alba. La storia è troppo costa. Ma io so. Ed ora le prorio. Solo tu puoi dare una risposta a tutto questo. È tutto una messessa. Leggi segni. Leggi segni. Sarò un segno. Indizi. Segni. avevano detto niente iniziative personali perché non potete disegnare? perché sono soggetta? ti sarà speranza? sempre speranza possibile che tu non te ne sia accorta? io sono io sono i nomi dei responsabili io sono tutti quei nomi grazie a tutti